Riccardo, oggi abbiamo... La Querce è un'azienda storica, i vini della Querce, ora faccio un spazio pubblicitario, trovate qui, la vineria moderna, o Firenze, ovviamente. Ho un figlio prediletto, dai, c'è la Querce. Fin dei conti il nostro vino bandiera, quello che nasce nel 64, quando Gino Marchi vuole la sua vigna, e per me pure è sempre il vino che mi dà il più piacere. A me è piaciuto molto l'Alphora. Bene, perché? Lo trovo fresco, un po' al mio palazzo lo trovo soddisfacente, non voglio entrare in tecnicismi. È un vino che per me mi dà soddisfazione, mi dà gusto. Adesso sto sentendo la Querce, il vino più importante di Marco, la Querce, che lo trovo veramente di un gusto eccellente e lo troverei perfetto, con un abbinamento perfetto. È un bel peposo all'impruneta. Vino dell'impruneta e peposo dell'impruneta. L'abbinamento perfetto. L'abbinamento perfetto da Già. Chi do porto è peposo? Eh, posso finire. Non è peposo. Non è peposo. Allora, appuntamento per il peposo con questo straordinario vino. Assolutamente sì. Passate a piacchierare. Gli assaggi sono gratuiti. È una sorta di wine club il sabato, ci si incontra. Wine club il sabato sera. Ecco. Quindi in bicchiere ora abbiamo un'anfora. Abbiamo il vino in anfora. Sorprendente. Vino della terra si chiama. Il vino della terra. Poi abbiamo anche un merlot in purezza. Un grandissimo merlot. Fantastico. Però i suoi vini rappresentativi, diciamo, nel senso largo dei termini più popolari, la torretta, il sorvetto, il canaiolo, sono quelli che diciamo... Il vino di Firenze. Il vino di Firenze. Chiardi. Sono i polli fiorentini, per cui è il nostro vino territoriale. Bene. Noi andiamo a degustare. Ciao a tutti. Ciao a tutti.